Don, la signora è una poetessa e famosa. Quanti libri hai scritto? Ascolti, non hai che pensi di contare o degli genitori libri. Sono fai una ramassa a un traval d'esaminador, a una commissione di poesia. Non gli ha premi che non li faccia spettacolare. E a me è la grande rivale della Pugnatova. La Pugnatova, a quella della Pugnatova, basta che l'anno che a Juan va a declarare al pubblico e deve rispondare 40 anni, assi, senza ninguna regola. Deo mu sguardo, io al pubblico potrei declarare solitario. Come a Marti, il l'anno passato aveva detto che t'amia 39 anni. Questa volontà è la diversità più grande che può rimanere in nostre scelto. Sono anni che non ho declarare pubblicamente credito, e non ho capito di modificare le mie declarazioni. non ho capito di modificare come a Pugnatova che vengono con me e le agrada. Signora, solo a me, al manco o a me, di perseveranza. Però, canino della Pugnatova, che t'è gran qualità di letteralità, di un che è la vera più alta. Paldù, una delle vera più alta hanno un panorama letterale contemporaneo. Una delle vera più alta, ma per carità. Un solo merito, sono in una gara. Ha guagnato un po' di premio, e è sempre presente in tutta la trasmissione televisiva. Che fondamenti temono la critica, oltre a trovare la politica? Ora, però, andremo a un campo assolutamente letterale. Magari a ascoltare la dolce esupazione che sopra questa autora, mi curia da fè la nostra spazia. Come a tutti i commentari di te, come in tala delizia di questo nostro ordinario? Non troppo regà, damanà una poetessa, un giudizio di valore sopra un'altra poetessa. Però confesso che sempre ha escizzato a ascoltare i giudizi di una specialità sopra un tema come questo. E mesi ancora, se a questa lezione magistrale la farà la nostra, estimatissimo, spazia. Don, spazia! Che vuoi dire? Se in tutti i d'asigiosi vi comprende perché la pugnatova in realtà non è così grande, con di un alcun critico che non ha mai questa fantasia. Mentre fantasia? Che verità ha le capacità di critica. Don, in un'estremata sintesi, perché se temeris, pure ingiudicare la gran poetessa la pugnatova, o se non ha determinato. Qualche non ha? di un'estremata sintesi, che si fa una redundante, che si fa una redundante, che si fa una redundante. E la sua criticità è una redundante di a sapere. che aciò è sostanzialmente innegabile e diremmo la verità, questa massa grossa del ruivio. E sapere aciò, ninguno lo può negare. Ah, spazia divina, le tue osservazioni sono sempre tanto utili. Grazie, grazie a tutti e un volo amare. Non senti io, anche voi altre, a che ci farà diventare un'altra vita, è vero? Nostro lomamenti ci fa movere la natura, il vento ci ricorda che le condizioni meteorologiche possono cambiare, senza rispetto per il nostro ordinato. D'un Dio che fa parte del mio figlio, che fa parte dell'universo. Pochino a me è stata senza discussioni di queste parti dell'universo, però mi è difficile consentire che tutto l'universo, e voglianza, ai miei ambiti privati, qualsiasi forma di pulire a te i nostri libri. Asparra, che mi avessi obbligato a rammarcare che a questi dinari, che t'abbiamo carregati di preparare il giardino, corre il rischio di tornare. Non dipende. Non so giusto i fischi. Io, però, l'abbiamo carregato a tu, di organizzare la forma migliore. E ora, io ma sia che questa è la forma migliore di tant'candina. Ora, l'uvento, vuoi fare tanto che quando si apporta lo pavaglio? Tensì, Rao, il pavaglio pareggia un globus. Grazie, l'astimatissima. De verità, un globus. Credi che l'uvento si apparà meno fuori. Liegarei in un pavaglio a una cosa. E non posso andare a casa? E di questa maniera consenti alla trivialità che si vengono e modificare un programma perfetto in tutti i dettagli. Però, Asparra, che che fai? Perché si arrivi a me le scordi? E l'uvento è già muoiente in un pavaglio. Tampoteva male. Conexerei in un gioc. E che ti fai un giocino? Questa incontenibile necessità di conoscere un giocino non fa creare che la conoscenza del ben non sia né sufficiente, né satisfaile e certamente non per causa di imprinse a cada gioc. Credi al calo un giocino? Qualche credo che seguirà miglior di questo. E se non trova, tu verà sempre a dire che la salta. E io vuoi fare lo stesso. També tu, dottor Flore, ti deixi trasportare per il primo copo di vento. ma è suposare che il giocino che la stende in un spesso ben plantato in terra per la conoscere la forza di questo vento. però che una giovanetta sa decima ora come una puglia è una prestazione clarissima di divilesa di carattere che il vento è un giocino 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 ma sta la conoscenza e lì la costanza come alza la tua mente che la mia e tu dici di me ranger? Non si tratta del pez del fischio evidentemente questo campo di osservazione suscita i miei interessi. Creus? Suscite che questo vento tanto barro e falfarro sia un vulgar vento di campagna di provare e di esperienza e di gusto. Certamente si può dire che il paio giusto se non accada tutta questa grazia di Dio che avranno in terra. L'astima che non avremmo pensato di portacosti a Zopapè avremmo poter salvarsi sotto la crescita varia. Normalmente salvato ti salvabra da spese di là. Non sei mai sufficientemente prevedente però chi potrebbe prevedere una disgrazia come questo? La verità è che non lo sappiamo tutelare contro l'adversità semplice. Però se credo in dei dati anganciati delle scarie che stanno portando la tovalla a mal mangiare sta fivoca. È una questione dei principi. È di passare davanti di me, davanti del mio badale. questa felicità uscola di morte nei propri principi ma di gran considerazione. Si pensi che tutta la nazione s'aguanta sopra la determinazione di poche persone come questa, senza dubbi se le cose continuano si 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 L'uomo è giupa, l'uomo è bufa quando vuoi. Quando buffa, buffa, e quando buffa, non buffa, la dite tu a farra. Chiara Roma, questo obiettivo, la di fede apremmo tale obiettivo. Se donati confianza a chi non ha mai scelto. Se è in verità un grande ingeno a Sparta, ancora non ho scomplice che necessari documentarci a lei sopra le tendenze generali, prima di che gli ammultati si salvavano i sagotti di Daniele. Con quina vantaggi ha sparato usando il tuo martello già fuori del coro? Chiara Sparac, se vuoi partire in giro di fello, potremmo auguri, se resta il lavoro di mio per zancare e zancare a tu. E anche tu, dottor Flor, se vuoi, potrei bastare. Grazie per la generosità, signora. Ora comprendi che certi ideali sono molti di sostanza e che in realtà le parole più belle si farà in sarmantina. Rastarei al vostro servizio. E tu, dottor Flor, che farai? Grazie, signora. Io, però, partirei ugualmente. Farei il mio viaggio a Pèo e destora. Non mi hanno portato il vento giallo da me, così non era fiabra o si lieva mentira. E, credo giù, talca nuova esperienza, buscato gli occhi nuovi e lui ricercano cari. Perciò la salute, generosa signora. I saluti tutti voi altri, eleganti signora e rispettabili signora. Dottor Flor, Sanva, qualche creio che per aconseguire lo che desideri stanno in dubbio in prima persona, senza puntare a malaggiuti di ningù, senza pecare al consensio dei altri. Ninguna aspenda externa ma portaragli un decesio. Treti dei meus peus. Adeu. A che scopi del pezzo, a mia intenzione civiltà, probabilmente accontanzerà l'autore, però non credo che pensare a moda queste atti perfugli che avrà un fascicchio di moralismo, troppi di verità, tan sopportabile e indecente, che una mignoneta come adolescente pughi creura, dimostrata una nizione di Dio. Però veramente pensate che questa era l'unica soluzione? No. Vos crei che io sempre vi prego. Non contrabatte un resto. Fora disleale al vostro. Assatem la vostra fila, con che vos, si vien l'autore, assatem che capi di questa maniera che una criatura insignificante pughi denigrare lo nostro nome, le nostre convinzioni e il nostro estil di vita. Vorremmo che acabi in altri spunti? Beh, che acabi altro. Doni. Senza che tutti gli altri stanno in possibilità di contestare. Asparemo a noi, e nel giurizio del pubblico, e nel sol santifici di giustizia. e doi adevo. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.